L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama allo 0773 49 36 60. Ariete Le parole saranno la chiave di volta, un discorso ben orchestrato vi porterà a ricoprire una posizione di vantaggio rispetto ai vostri concordenti e nessuno oserà ribattere a una vostra appassionata osservazione e questo vi metterà in luce di fronte a un superiore. In amore noterete un interesse nuovo. Toro Un nuovo progetto nascerà in maniera quasi spontanea, grazie alla vostra grande voglia di oggi. La partecipazione di più persone sarà necessaria per la riuscita. Mettere in chiaro alcuni punti sarà una priorità per quanto riguarda il campo lavorativo. La chiarezza non tarderà a portare i suoi frutti. In amore supererete delle incomprensioni con un sorriso. Gemelli Vi lascerete contagiare dagli stati d'animo altrui. La vostra empatia vi porterà a vivere alcune situazioni del tutto originali e in alcuni casi interessanti. Una nuova iniziativa elettrizzerà il vostro abituale ambiente di lavoro. Lasciate che la vostra curiosità prenda il sopravvento e avrete una sorpresa. In amore dovrete difendere le vostre ragioni. Cancro Sarete in grado di affrontare una situazione abbastanza spinosa in ambito personale. Il vostro approccio alla discussione sarà fondamentale per trovare una soluzione. Siate comprensivi con i colleghi dato che un avvenimento imminente vi porterà ad avere necessità di compattare le forze. In amore dovrete mantenere la lucidità e prendere una scelta. Leone Tempo delle verità. Una persona sul lavoro diventa sempre più importante e dovrete trovare un modo per tenerla accanto. In amore dovrete dare fiducia. Ne trarrete beneficio. Vergine Dovrete seguire un modello o una procedura che per molti è da ritenere assolutamente infallibile, ma farete bene ad ascoltare un parere prima di procedere. I vostri sforzi in ambito lavorativo non corrisponderanno a un oltrettanto riscontro in termini di risultati. Se non vi abbatterete tutto migliorerà. In amore vi renderete interessanti agli occhi di qualcuno. Bilancia La modestia dovrà essere il filo conduttore di questa giornata. Mantenere il profilo basso vi aiuterà a capire chi realmente stia intorno a voi in maniera disinteressata. Un collega o un superiore farà passare per proprio un vostro pensiero. Sarà bene lasciar perdere ogni rivalza perché l'idea si rivelerà errata. In amore non dovrete essere passivi ma agire subito. Scorpione Novità sul lavoro. Una situazione che consideravate assolutamente immobile si sbloccherà di colpo. In amore non lesinate la comprensione e l'appoggio alla persona del cuore. Sagittario Vivrete un tuffo al cuore grazie alla ritrovata e alquanto improvvisa riscoperta di sentimenti anche se magari solo di amicizia per alcuni. Crecredevate ormai svaniti passati. La felicità vostra di entrambi sarà appunto quella di raccontarsi del passato. Belle serate all'orizzonte quindi. Capricorno La vittoria è vicina nel lavoro. Andrete incontro a una sfida vittoriosa con chi pensa di saperne più di voi. In amore vi sentirete incompresi e dimenticati ma passerà. Acquario Valutate le opportunità. Ciò che in questo momento può apparire accattivante potrebbe in futuro svelare risvolti negativi. In amore sarete vicini fisicamente ma lontani con il cuore. PESCI Dovrete fare una scelta sul lavoro. Sarà per voi difficile trovare l'equilibrio con i colleghi che appaiono ostici. E allora sorridete e tutto si appianerà. In amore rivaluterete quella che pensavate essere soltanto un'amicizia. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomanti-europei.it Grazie Grazie Grazie